Il 5 ottobre avrà scadenza l'avviso pubblico presente dal 25 settembre sul sito istituzionale del comune di Ponte Cagnano-Faiano per l'acquisizione delle iscrizioni di bambini tra 0 e 36 mesi ai fini della frequenza di micronido e servizi integrativi al nido a titolarità pubblica per l'anno scolastico 2018-2019. A tal proposito la coordinatrice dell'ufficio di Piano Giovanna Martuccello fa presente che l'ufficio procederà immediatamente alla verifica delle istanze che perverranno entro la data stabilita redigendo le apposite graduatorie come previsto dal regolamento sulla base della dichiarazione ultima dei redditi per la determinazione della quota di compartecipazione della spesa.